Buongiorno a tutti, oggi è sabato 24 aprile. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti dal 60 al 69. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù dopo aver ascoltato dissero questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che io ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può avvenire a me se non gli è concesso dal padre. Ma da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, volete andar bene anche voi? Gli rispose Simon Pietro, signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio. La durezza delle parole che Gesù proferisce dal punto di vista degli ascoltatori di Gesù è comprensibile perché già ieri abbiamo considerato come Gesù interpreti in modo del tutto innovativo quello che per la Torah è la custodia della vita attraverso le molteplici indicazioni della legge, affermando che mangiare il pane della vita è mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Ieri abbiamo visto quante implicazioni e come è comprensibile questo stato d'animo degli ascoltatori di Gesù. Ecco Gesù è consapevole di questo, infatti risponde a questo scandalo provocato dalle sue parole quasi per dare una spiegazione, per tranquillizzare gli animi di questi suoi seguaci, affermando che le sue parole sono spirito e sono vita e quindi riguardano un altro piano interpretativo rispetto a quello pratico della legge. Infatti lo dice in modo esplicito Gesù desidera fare un discorso di carattere spirituale, certamente è il linguaggio concreto di Gesù a scandalizzare ma di fatto attraverso proprio questo linguaggio concreto egli ci mostra che lo spirito e le realtà spirituali non sono realtà astratte e non possono essere spiegate ma vissute, per questo si possono comprendere solo con un linguaggio concreto. Ma occorre che le realtà dello spirito siano realtà della vita, dell'esperienza. Allora si può capire il discorso di Gesù come ogni discorso spirituale, cioè che venga dallo spirito di Dio. Questa caratteristica di concretezza, di corrispondenza nella vita è tipico del mondo spirituale, del mondo religioso mistico e potremmo dire che quello che oggi il Vangelo intende trasmettere è che i cristiani o per la comunità comunque che Giovanni formava al seguito di Gesù considerano l'eucarestia come il modo per essere in contatto diretto con Dio, in modo proprio spirituale, ma quindi concreto anche nella vita reale e si attua nella carità, nell'amore tra i credenti. Comprendiamo allora che o le parole di Gesù si qualificano come spirito e vita, cioè in questo piano dello spirito e quindi sono vita nello spirito oppure sono incomprensibili, anzi inconcepibili. infatti di fronte alla libertà che i discepoli sperimentano grazie all'invito di Gesù, perché è cosciente di aver detto parole molto dure, Gesù lascia liberi anche i suoi discepoli più cari, dice proprio volete andarvene anche voi, ecco li lascia liberi di andarsene o di accogliere questo tipo di esperienza spirituale che incide la vita. Pietro, vediamo, afferma anche a nome nostro oggi, Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio, ecco che lo Spirito Santo ci doni di vivere l'esperienza di Dio, che è anche conoscenza, quindi di conoscere come hanno conosciuto Pietro e gli Apostoli, perché conoscere nella Bibbia non è mai una realtà solo intellettuale, ma è anche concreta, che ha a che fare con l'esperienza e con la vita. Allora che anche per noi oggi l'Eucaristia sia un fare esperienza dell'amore spirituale che unisce i credenti tra loro e loro a Dio Trinità. Lo Spirito Santo ci doni di conoscere Gesù così, nello Spirito, nella conoscenza di Dio, come Pietro e gli Apostoli ce l'hanno trasmesso, per annunciare la morte di Gesù, per proclamare la sua resurrezione e vivere nell'attesa gioiosa della sua venuta nella gloria. Buona giornata!